Ciao frate, ciao sore, sto qui nella mia posizione regale, praticamente arcesso, la posizione più regale di tutti. No, volevo dire una cosa, volevo dire che io ricevo molte iscritte su dove arriva le notizie, no? Dice mi sono iscritto al tuo canale, passa sul mio, solo che io vado a vedere sulle iscrizioni e il logo di quella persona che mi ha scritto che sei iscritto non c'è stato, non c'è stato né sul cellulare mio, tal di tali sei scritto al tuo cognome, manco su gmail, mi pare che è gmail, sì, c'è scritto tal di tali sei scritto al tuo canale. Per cui io, poi vado sul canale della persona che ha detto che sei iscritto al mio canale, vado su iscritti, vado a vedere gli iscritti, il logo mio non c'è, per cui io non mi iscrivo al vostro canale se non mi trovo iscritto sul mio cellulare, tal di tali sei iscritto al tuo canale. Non mi iscrivo, perché sennò mi è stata pianta. Ero iscritto a due o tre canali perché mi avevano iscritto che siano iscritti al mio canale, solo che non ci stanno le loro iscritte, tal di tali sei iscritto al tuo canale, tal di tali sei iscritto sul tuo canale. Poi io ho 43 iscritti, 43 canale scuolo, canale di merda, praticamente 43 iscritti. Per cui se trovo sotto cinque frasi, guarda, mi sono iscritto al tuo canale, sti 43 iscritti dovrebbero salire, da un 43 dovrebbero essere 48 o 5 iscritti in più. Invece non ci stanno, per cui non vi siete iscritti. Poi su... insomma, vabbè, mi dite che vi siete iscritti per farmi iscrivere io al vostro canale e poi non vi iscrivete al mio perché non vi piace, perché ci stanno un bel po' le stronzate, però con tutto è un fondo di verità. Per cui, in che senso vi siete iscritti? Ma, non lo so, mi piacerebbe sapere... In che senso, nonna? Un po' di perdone, un po' di... Vabbè, io se trovo sul cellulare scritto tal di tali sei iscritto al tuo canale, io ricambio, vado sul tuo canale e mi iscrivo. Però se non lo trovo scritto e trovo solo commenti vostri, mi sono iscritto al tuo canale, ripetendolo pure, guarda che mi sono iscritto al tuo canale, mi sono iscritto al tuo canale, ma se io non trovo il logo del mio canale, sul vostro profilo, sugli iscritti, non trovo il logo, ci stanno tutti i loghi che vi siete iscritti e il mio fatalità ci sta, per cui non vi siete iscritti. Poi non mi compare la scritta, tal di tali sei iscritto al tuo canale, non mi compare, per cui o c'è un impiccio di YouTube, oppure non vi siete iscritti e mi è stata a piaccia il culo. Eh? Che vi devo dire? Niente. Se mi faccio un po' da cazzo. Sto giocare. Hai capito? Quando riceverò la scritta sul mio cellulare, tal di tali, Pasqualino Casanoccio o Rumbarella Chiappatosta, se hai iscritto al tuo canale, io vado là e mi iscrivo. Se non lo trovo, non mi iscrivo, solo se mi iscrivete su un video, oh, bello il video, mi è piaciuto, cazzo stai lì, che ti è piaciuto? Ehm, niente, non vengo anche sul canale vostro e mi iscrivo. Mi iscrivo solo se trovo il logo, tal di tali, Pasquale Casanoccio, Casanoccio, se sei iscritto al canale vostro, oppure Ghiapatosta, se sei iscritto al canale vostro, oppure Pallemosce, se sei iscritto al canale vostro, oppure Scrotodorato, se sei iscritto al canale vostro. Eh, se non trovo Scrotodorato iscritto al tuo canale, io non mi iscrivo al canale di Scrotodorato, oppure se non trovo scritto Pallemosce iscritto al tuo canale, io non mi iscrivo al canale di Pallemosce. Capito come? Vabbè, io vi saluto. Prima di cuocere i testi, prima di cuocere i testi, prima di cuocere i testi, prima di cuocere i testi. Ciao fratello, ciao sorella, un abbraccio. Ehm, se vi iscrivete, me ne accorgo, se non no. Ciao fratello, ciao sorella.